quindi oggi ci troviamo a caffarella e i meanti dell'appia uno dei parchi di roma e il buon sergetto ci va da cicerone da come svincola col motore già acceso non mi piace far culo a lui entrata la caffarella noi invece imperterriti il motore ancora non lo accendiamo guarda un po siamo a fine novembre a fine ottobre che fa un caldo di quelli estivi proprio noi siamo ancora in convalescenza ma oggi proveremo a fa qualcosa e sergei oggi ci proviamo per ora la caviglia reagisce bene la piccola fattoria ecco la piccola fattoria facilissimo quello fatti ho famo ho famo suinello si comunque si ci sono passato col gruppo facili questi sergei siamo venuti apposta questo è la madonna questo si ho detto sempre a piagne donna bello però mi piace se è carino carino voglio che ci diverti qua va era questo vai tutto passi sinistra ti allarghi la sali e passi a destra ok non dentro al canale lì come passi quel pezzo c'è un divino lavoro salti si può anche saltare o lo copi lo vedi quel masso lì che fa mezzo così la è un masso è alto così l'hai visto quindi quella arrivi la freni lo copi e poi ti dirige io secondo me non c'è al limite gato vero al limite gati se no se è una cazzata sto a tremare come le merda è una cazzata l'abbiamo fatto e ora si accinge il nostro amico sergio è una cazzata se si fa a occhi chiusi deciso se sei deciso lo fai se no non lo fai e se sei deciso lo fai se no non lo fai non lo vedo non lo vedi fai questo piccolo fammi vedere intanto ok e calcola che però viene pure un po troppo avanti è pure un po troppo avanti viene il baricentro più al centro rifallo molto meglio molto meglio così così piedi pari è che poi ci ho fatto caso se esce a piedi pari tu perfetto perfetto ma se fallo c'è fallo dammi retta è uguale vai 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 non frena non frena vai marcatroia se vieni vieni come ti ho spiegato frena molla molla non ci riesco a molla non devi più un po più giù dovresti venire molla se e la molti se è una cazzata culo dietro leva testa paura vai 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 e non ci riesce e vabbè o ma se è grosso comunque davvero è grossa che a fare non è grosso che puoi che aiuta di questa volta si via qua, fianchete fianchete, affianchete a me ecco eh, metti in eco ecco, tre due, uno scatto? uno, vai guarda sergetto si Grazie a tutti.